buongiorno a tutti oggi parliamo di un ingrediente molto interessante il CSL acronimo di corn steep liquor tradotto come liquore di grano mentre in realtà sarebbe il liquore di mais si tratta di un prodotto di scarto cioè quello che praticamente resta dopo aver privato il mais che è il cereale più coltivato sul pianeta della sua componente più interessante che è l'amido da cui poi si ricavano un sacco di semi lavorati per estrarre l'amido si effettua una sorta di idrolisi a caldo del mais ovviamente non si estrae tutto l'amido e quello che resta poi è corn steep liquor che è un prodotto estremamente antico che negli anni 40 veniva utilizzato per produrre la penicillina un antibiotico una muffa che appunto veniva coltivata su quello che rimaneva dall'estrazione dell'amido dal mais in realtà per l'uso car fishing e ci sono alcune varianti nel senso che ai giorni nostri visto che il cereale costa comunque molto poco conviene sfruttare l'intera fermentazione del seme privato del germe che ha altri impieghi e quindi utilizzando anche l'amido del seme stesso così come negli anni 90 il primo csl per il car fishing era sostanzialmente lo scarto quello che rimaneva la poltiglia che rimaneva dalla produzione di whisky o comunque alcol o anche bioetanolo e che veniva utilizzata praticamente come mangime secondario per i bovini essendo l'inghilterra ricca di distillerie questo semi lavorato insomma era disponibile a bassissimo prezzo e si tratta comunque di un prodotto fermentato estremamente appetibile per il pesce la fermentazione di tutti i cereali e di tanti legumi produce delle sostanze chimiche primarie che sono veramente molto attiranti per la carpa il motivo è banalmente che queste sostanze chimiche inducono il pesce a pensare che vi sia una fonte di cibo molto vantaggiosa e di conseguenza viene attratto nell'area e poi vabbè cade sui nostri terminali e quant'altro il constep liquor moderno è quindi ottenuto dalla fermentazione del mais macinato spezzettato che viene sottoposta sostanzialmente all'azione prima del calore quindi trattamento termico importante in modo da scomporre già l'amido in zuccheri più semplici e poi fatto aggredire da lieviti e batteri opportuni fatto fermentare e quindi ripastorizzato fino a addensare la soluzione ricavata e che contiene circa un 30 35 per cento di materia solida quindi quello che noi troviamo come liquido è in realtà il risultato di un processo che fa evaporare in parte l'acqua e addensa quindi sotto forma di sciroppo cremoso il il risultato finale è un prodotto che ha un elevato rapporto costo beneficio un ottimo ingrediente da aggiungere praticamente a tutte quelle esche che puntano soprattutto sullo stimolo gustativo e vegetale tipo i nati mix tipo i beer food mix ma nulla vieta che possa essere impiegato anche su beer fish e fish mix anche se l'intrusione di csl toglie spazio ad ingredienti che potrebbero essere più interessanti in quel caso faccio un esempio banale su un fish mix destinato alla pasturazione in acque superiori ai 20 gradi per dare un apporto nutritivo massimo conviene mettere un olio tipo l'olio di fegato di merluzzo o l'olio di salmone o l'olio di pesce generico che hanno un costo comunque molto simile al liquore di grano e quindi ottenere un risultato calorico molto più importante ed interessante quindi la sua intrusione va valutata diciamo che il corn step liquor potrebbe essere un ottimo ingrediente invece per le pasture cioè invece di utilizzare l'acqua per fare le palle di pastura o di method l'utilizzo del liquore di mais effettivamente potrebbe dare una marcia in più in termini attrattivi alla nostra pasturazione e con costi di tutto sommato accettabili è un prodotto che volendo si può realizzare anche in ambito casalingo sfruttando però preferibilmente i mesi più caldi se se ne vogliono realizzare grosse quantità perché questi processi fermentativi richiedono temperature che è meglio siano attorno ai 30 gradi affinché avvengano in poco tempo e in maniera marcata e decisa se volessimo costruirci il nostro fermentato di mais la soluzione migliore è ricorrere allo spezzato che è un mangime semplice da consorzio che possiamo trovare quindi in sacchi anche da 25 chili la prima operazione da fare è in genere dare una sciacquata al al nostro spezzato di mais al quale potremmo mescolare anche i chicchi interi se volessimo creare poi comunque una sorta di pasturazione dare impastare anche che ne so con il fioccato e aver dentro sia il csl che abbiamo prodotto che lo spezzato che il chicco di mais e fare quindi un lavoro completo ad ogni modo prima sciacquiamo quindi si tratta di sciacquare velocemente con con l'acqua la polvere e l'impurità vengono in superficie con un colino un passino possiamo pulire oppure scolare questa prima acqua dopodiché ricoprire nuovamente lo spaccato di mais di acqua nella quale andremo ad aggiungere un 20 30 grammi di zucchero per ogni chilo di prodotto in modo da facilitare poi l'azione dei lieviti e dei batteri dovremo sottoporre il tutto a una buona bollitura che andrà fatta dopo almeno un paio di giorni di ammollo in modo che lo spezzato si ammorbidisca notevolmente portiamo a ebollizione facciamo bollire almeno una quarantina di minuti dopodiché lasciamo raffreddare quando il nostro prodotto si sta raffreddando e la temperatura è sicuramente scesa al di sotto dei 40 gradi possiamo aggiungere qualche grammo di lievito di birra due tre grammi per ogni chilo di spezzato qualche grammo di lievito madre disidratato due tre grammi per ogni di spezzato e quindi lasciar fermentare in un luogo che abbiamo detto deve essere a una temperatura che non scenda mai sotto i 20 gradi preferibilmente al di sopra di questa soglia in genere 4-5 giorni di fermentazione e a questo punto o ripassiamo il tutto con un frullino un frullatore comunque qualcosa in grado di sminuzzare ulteriormente per creare una consistenza più sciroppo che non liquida oppure ce lo teniamo così e sappiamo che abbiamo un cornstrap liquor un pochettino più grossolano come granulometria che andremo a impastare normalmente col fiocco di mais che sarà sufficientemente elegante per creare delle palle di pastura certamente molto attrattive oppure ribadisco dobbiamo andare a frullare il tutto a questo punto possiamo rimettere sul fuoco questo prodotto che abbiamo frullato e facendolo sobollire a fuoco abbastanza moderato per qualche ora bloccheremo il processo fermentativo l'acqua evaporerà un po alla volta lasciando proprio la pentola aperta e faremo finire il processo di bollitura quando avremo raggiunto una densità di sciroppo che più ci aggrada insomma qui possiamo scegliere noi effettivamente a che livello di densità fermarci e quindi questo utilizzarlo come ingrediente invece da introdurre nella parte liquida di beer food mix e nutty mix e via discorrendo come dicevamo all'inizio